Allora, per prima cosa facciamo avanzare queste truppe qua sul ponte Con queste Sarei per attaccare queste effettivamente Questo l'abbiamo preso Mi dà 2.600, non male Ah, facciamo così, prima facciamo l'assedio Vai Ok, un cavaliere, sergenti a cavallo Fanteria Ok Speriamo di fare meglio Ah, potevo fare il batterio Ok Conan, mostraci di che pasta sei fatto Général C'è qua? Mougez! Vite! Allora! Enfoncez leur défense! Enfoncez leur défense! Enfoncez leur défense! Ok Ok, appena su... No, vabbè, continuiamo a seguirla Enfoncez! Prè! Enfoncez! Enfoncez! Prè! Enfoncez! 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 c'è un lancio lasciamo fin qua così continuiamo a dargli fastidio questo è 32 vai no lasciamo a vedere di qua ok questo è il muro a destra andiamo qui come va sembra che abbiano sfondato i nostri e te pareva che il muro non funzionava troppo bello per essere vero iniziamo mettiamo di rinforzi non è troppo bello per essere vero cerchiamo di fare un altro buco da qualche parte da questo punto lasciamo perdere lasciamo perdere e andiamo dentro ok ci posizioniamo e anche voi li posizionate ci posizioniamo qua ok vai 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 staccato adesso ok ok riprendiamo posizione qua dietro saliamo saliamo fuggie marchi 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 Marciamo Allora Questi li teniamo per di qua Calieri per di qua Per uscita Oh, ma Madonna Eh, eh Paus Brutti idiota Allora Mi preghiamo Cavalleria, vieni qui a supporto Voi Avanzate fino a qua Eh, ti pareva che non beccava il mio Questi li mandiamo a supportare questo E anche questi Carceri Attaccano questi Eh, guarda che qui muore Ok Eh, stupidi comandi da segno Sì, guarda che mi pare Sì, guarda che mi pare Unite, mora l'invi Eh, dov'è anche io ci C'è un po' di più. Chevalier! Chevalier! Ratez-vous! Chevalier! Bugez! Uniti! Morro l'ennemi! Avance! Uniti! Morro l'ennemi! Uniti! Uniti! Morro l'ennemi! Quindi diamo un altro generale morto. Chi manca? Dai, quanto ci vuole per ucciderlo uno? 208, 67, c'è un morto generale. Che tristezza. Eh, conquistata però. Occupiamo. 546. Fortuna che ho lui! Robertus de Nusville. Basta che non me lo mazzano anche io. Ok. Ok. E da qui ci muoviamo qua. Eh, morte eroica, insomma. Si è un po' suicidato, diciamolo. Dov'era la cosa della famiglia? Vediamo. Allora. Eh, Conan. Eccolo qua. Che era il figlio... di Philip... che è morto nel 1989. Che aveva sposato la sorella di Emma... di Ugo Capeto. Unico figlio maschio. La figlia femmina è sposata con Ponce de Cris. Ugo Capeto, invece, che ha... Matilda. Ha adottato Balduino de Neve. Ha adottato Alende, ma comunque... cioè, sui suoi vassalli, immagino. Penso che funzioni più o meno così. Ah! Tipo di epocabante, tre anni. Tredici. Questi hanno un figlio maschio. Quindi questo è il nipote. della prima figlia del re. Ok. Poi ho un'altra nipote, dalla seconda figlia. Maschio e femmina. Costanz si è sposata da poco, immagino. Balduino di Brabant è morta la moglie, ma va bene così. Va bene. Allora... Dove sei? Dicione. Ripariamo il muro. E va bene così. Due nuovi territori. Non male. Adesso tocca a questi. dove dovremmo frappare? Ora, la questione è... se io attacco... questi... o li lascio attaccare? È una battaglia sul fiume? Io prima farei questo. Per la Francia, mesi amici! Donnelli la gloria e la victoria! Bene. Noi siamo victoriei! Glorie alla Francia! di cinque anni. Signor! Quarantotto anni. Conestabile di Francia. Comes Stabulari. Il primo ufficiale della corona. Più uno comando, più uno influenza. E tu sei... Alende Maokat. Che, dal punto di vista... genealogico... come siamo messi? Eh... Ha idottato Raimondo, immagino. Ok. Beh, sì. Ci sta. Eh... Sì, attacchiamo. Ci riposiamo. Signor! L'ultima Grimane è... Qua. Sì, attacchiamo. Ok. Ok, schieramento completato. Sempre un clima un po' freddino, eh. Sì, attacchiamo. Davanti siamo di poco. Unite! Unite! En avant! Ancora un po' fino al Cespuglio. Certo, una fila da soli due uova, eh no. Un po' più corta. Un po' più corta. Un po' più corta. Un po' più corta. Ok... Arte-Vo! Non c'è più cort Un po' più cortale. Prepariamoci la carica. Sui fianchi Pausa Allora gli arcieri Non c'entrano su questi Noi avanziamo Vabbè no, teniamo la posizione perché Va bene così No Ok, ok 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 Fine Ok Ok Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ok Continuiamo per studiare questi Dai 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 che ce lo facciamo Oh perfetto Il maledetto è morto Perichiamo questi Gli arcieri ce li portiamo fino all'interno del bosco qua Ok 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 Eh, 68 morti Sì, mi ha caricato La fanteria Eh, vabbè 60, sì 65 Era l'unica unità decente che aveva Ok, questo se n'è andato E questo è qua che arriva Eh, 35 Qui ce l'ho esergenti Sì, quindi prendo questi Questi E questi Si uniscono Ok 35 vanno bene Questi vanno bene E qui ci siamo Dijon è presa Adesso arriva il nobile Allende mock-up E ne vè Ho preso un altro stentato Dei borgognoni Ora questi Mi avanzano contro questi Per forza Questo adesso lo liberiamo E proviamo E proviamo a rispanderci Più a sud Serviranno delle torri Sì E vediamo cosa vogliono Gli inglesi Oui Vediamo adesso Come un attimo la mappa E il 1105 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Forse Toulouse Toulouse Sì, forse 8 insediamenti Poi ci manca Arelate Tutto sommato non male Sì Poi dopo c'è anche Anjou Che dovrò sistemare Perché questo richiede Le condizioni di vittoria Non male comunque Questo regno di Francia Va bene